sono molti anni poi uno fa anche le sue scelte eccetera però preferisco fare i fraticelli come ce n'è uno io mi candido nel senso è un argomento a livello umano che mi interessa molto approfondire quindi mi è capitato di fare che i francescani di fare i preti di fare i frati laici poi ho fatto giuda ne sono capitate di tutti quanti i colori e girando girando all'interno di questo davvero comincia ad essere un mare a un piccolo laghetto di personaggi sono davvero tante hanno tutti la stessa domanda lo stesso tipo di di umanità nelle loro diversità